Carissimi, vista l'emergenza sanitaria, sappiamo che il nostro territorio da sempre contiene delle espressioni di fede che sono cultuali e culturali insieme, che non solo sono contenitori d'arte, ma sono esperienze di vera relazione con Dio, i santuari e le basiliche del nostro territorio. Proprio in questo difficile momento vogliamo rivolgerci ai nostri patroni, vogliamo rivolgerci alla Vergine Santa, invocando la loro intercessione affinché questo momento così difficile e questi l'epidemia possa essere al più presto debellata. Grazie e buona visione a tutti. Grazie 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 a tutti. Vergine Maria, Avvocata del Popolo, ti lodiamo come Madre di Dio e della Chiesa. Amata dall'Eterno amata dall'Eterno amore, piena di grazia, in te riconosciamo l'irradiazione della gloria di Dio e della gloria di Dio e della gloria di Dio che ti fa madre di ogni provvidenza.